Cavallo di ordine dello starter, ma che difficoltà per Explorator e Gioiella Park, che però adesso si rimettono di trotto. In partenza dall'esterno Freccia del Mare cerca di scavalcare tutti, all'interno c'è Idol Demar, c'è anche Explorator, la rottura di incontrale con Freccia del Mare che va su Idol Demar, passa come di consueto al comando, c'è la rottura di Gioiella Park con al comando Freccia del Mare che li sgrana con Idol Demar secondo, poi Explorator, poi Liado M, poi a distanza Giorgio Pella, l'avanti al numero 7, inverno al Gio, la rimessa a Gioiella Park. E la scarierante incontrata, Freccia del Mare, Capronostico al comando 27-5 per i primi 400 di gara, Freccia del Mare fa andatura, Idol Demar si tiene un po' discosta, poi Explorator, Liado M, Giorgio Pella, la fila indiana un po' frazionata con Freccia del Mare che passa in 43-4 i primi 600 di gara. Giovanni Monteperto è riuscito a calmare il suo allievo, adesso la fila si ricompatta perché Giorgio Pella è andato in schiena a Elia 2M. I primi 800 di gara, passati in 59, tondi tondi, Freccia del Mare al comando, Idol Demar secondo, Explorator che non sposta, davanti a Elia 2M Giorgio Pella. I cavalli che adesso sono sulla penultima curva con il chilometro in rallentamento in 14-6 per Freccia del Mare che si trascina sempre, Idol Demar. Adesso sposta Explorator che cerca di andare in caccia del Battistrada, Idol Demar che dà la mezza ruota con Freccia del Mare al comando, Explorator che arriva ai suoi fianchi, poi Idol, anche Giorgio Pella che guadagna Freccia del Mare, deve contenere Explorator, poi Idol Demar e Giorgio Pella a metà dell'ultima curva, Freccia del Mare, ancora Saldo Battistrada, deve essere stappato Explorator, poi Giorgio Pella a retta d'arrivo, a larga Freccia del Mare, di dentro ci va Idol Demar, all'esterno Explorator, Explorator che va su Freccia del Mare e lo infila, e poi all'esterno anche Giorgio Pella con Explorator che va a vincere a spaziare, è una corsa troppo facile per Explorator, avete visto l'allungo in retta d'arrivo, per il secondo posto è Giorgio Pella a centropista, Explorator Giuseppe Tutino, corsa anche tra i Nater, va a vincere bene bene, avevamo detto una quota molto buona per Explorator, c'era l'incognita Gioiella Park che però non ne ha voluto sapere, secondo l'attendista Giorgio Pella, terzo Idol Demar all'interno, che ha sfruttato i consueti problemi in retta d'arrivo di Freccia del Mare, 1-14-1 per Explorator.